Nella colonna sonora di Made in Italy, non nel disco, nel film, c'era un brano strumentale che era francoforte, o perlomeno veniva indicato così, che adesso se non sbaglio è diventato mai dire mai. Sì, ha avuto uno stravolgimento molto grosso, era una canzone che aveva una possibilità di essere comunque una canzone del progetto di Made in Italy, poi in realtà non lo è diventata mai e mi piaceva molto l'impianto musicale di quella canzone, è stato modificato da Nardelli e ho scritto un testo ex novo proprio su quell'impianto. Senti, prima hai accennato a Nardelli, produttore, che è un ragazzo di neanche 30 anni. Un bambino. Che tu, mi risulta che tu non l'abbia mai frequentato precedentemente, l'hai conosciuto in questa occasione così, e con i racconti come è venuto fuori? Bene, come ti dicevo prima, avevo voglia di fare un album senza troppi retropensieri, molto diretto, però ancora non sapevo che impronta sonora dargli. Allora ero a casa e dicevo magari provo a lavorare con più di un produttore per capire un po', che strada prenderne. Mio fratello mi dice, guarda, io mi sento di consigliarti questo Federico Nardelli, allora vado a vedere in rete, vedo il lavoro che ha fatto su Gazzelle, mi sembra anche un Galeffi, ed è chiaro che quel tipo di produzione non mi faceva pensare a che cosa avrei potuto fare per me, perché insomma sono mondi diversi da un puntista sonoro, però insomma proviamo, l'ho conosciuto, mi ha fatto un'ottima impressione subito, umanamente parlando, e poi quel pomeriggio mi ha fatto scegliere fra le canzoni che avevo, che pensavo che potessero essere adatte a una sua idea di produzione, lui ne ha scelto immediatamente una, mi ha detto torna fra quattro ore, mi ha detto come, sì sì, faccio tutto io, suono tutto io, perché poi in realtà suona tutto effettivamente, basso, batteria, chitarre, e la demo di questa prima canzone è stata subito convincente, ma mi ha mosso anche un bel entusiasmo fin da subito e alla fine lui è il produttore di tutto l'album. Registrare un disco così, praticamente, lo diciamo per chi ancora non l'ha ascoltato, ha suonato quasi tutto lui, perché è un po' gli strumentisti, suona un po' di tutto, e c'è un batterista, poi ci sono alcuni interventi dei tuoi chitarristi storici e poco altro, quindi questo vuol dire che hai lavorato in modo differente dal solito senza band, psicologicamente questo cosa vuol dire? No, psicologicamente io questa cosa l'avevo già provata, perché per dirti, a rivederci il mostro pure è stato prodotto così, soprattutto era un album in cui c'era una produzione fatta da rustici e io ero meno coinvolto del solito, perché in genere io in studio sono molto presente assieme ai musicisti del caso. In questo caso ancora una volta ho più assistito, ho più visto crescere le cose, approvando piuttosto che a volte chiedendo di cambiare altro, però devo dire veramente che è stata un'altra di quelle cose che mi hanno fatto piacere, cioè vedere che lui in qualche modo fosse così in sintonia con uno spirito, non era così facile, veniamo da mondi lontani, da epoche lontane, e lui ha avuto un ottimo modo secondo me di leggere un'ipotesi di suono mia nel 2019, in cui mi ci ritrovo proprio. Invece per quanto riguarda il tour che farai negli stadi, allora lì suonerai con la tua band, la tua band, Nardelli avrà un ruolo? Nardelli avrà il ruolo di fare un po' da supervisore per quello che riguarda il suono, quindi sarà assieme a noi, assieme a lui costruiremo un po' il suono facendo in modo che sia il più fedele possibile a quello del disco e vedendo se il suono del resto del materiale può essere sempre rimanendo, balliamo sul mondo, sarà quella lì, certe noti saranno quelle lì, però vedendo se con un piccolo upgrade, specialmente su basse batteria, se riusciamo ad avere quello spunto in più che rende ancora più pieni gli arrangiamenti, magari potrebbe essere, però questa è teoria, è un'idea che ho ma la devo verificare, sapendo bene che il repertorio mio più di tanto non si tocco ovviamente. Parlando di collaboratori un accenno a Lenny va fatto a tuo figlio? Sì, Lenny è stato chiamato perché fra le demo che ha prodotto Nardelli a un certo punto questo pezzo che si chiama La Cattiva Compagnia e finiva con un raddoppio di tempo di batteria su un riff che ha un sapore proprio metal, allora a quel punto gli ho detto guarda che il metallaro ce l'ho in casa e magari la può suonare lui, abbiamo provato e subito è stato entusiasta dell'idea come anch'io, sono molto contento che Lenny si sia potuto sfogare finalmente su un pezzo mio perché la media dei pezzi miei lo farebbero sfogare poco, è più estremo sonoramente parlando.